Ah! Chiudo la porta e faccio ah! Torna anche oggi Wendell e torna anche oggi questi giorni sono i suoi giorni potenti Sì, il barone stronza perché ho notato che le sue voci funzionano molto per combattere il vecchismo E allora oggi combatteremo ancora contro i vecchi che stanno invadendo il mondo, soprattutto l'Italia Perché non se ne vanno? E allora ci penso io ragazzi, ovviamente scherzando, questo è uno scherzo telefonico E allora oggi linkiamo, partiamo da una vecchia e poi voglio tritare ancora un po' il signor Cappella Perché è un periodo dove non stiamo più cagando e chiudiamo alla grande andando sempre da lei Dalla vecchia Spaccamuri! Siamo pronti, andiamo! Secondo chiedere? Pronto? Pronto? Chi cerca lei? No, avete chiamato voi? Ma allora chi è? Cosa hai telefonato a fare? Come? Cosa mi hai telefonato a fare? Non ho chiamato io, guardi che a me hai squillato il telefono, io ho semplicemente risposto, non ho chiamato nessuno, eh Allora che stronza allora Perché scusa? No, vai tu a quel paese, scusa Ma ho detto perché, non ho detto vacuio, ho detto perché Ah sì, grazie, ne Guarda che io non ho chiamato nessuno, ma mi hai squillato il telefono, ho alzato Hai sbagliato numero, chi cercavi? Ho detto che non ho chiamato nessuno, mi hai squillato il telefono e ho alzato il telefono No, sei tu che sei stronza, ehi Ma vai a quel paese Stronza 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 Ma le cose maestro È un vecchio molente Stronza Questa è omicidio Pronto? Ciao Chi è? Ciao Stronza Chi è che? Chi cerca lei? Ma la fanguola a mamma Ma sì, grazie, ne Stronza che merda Cosa mi mandi a fanguola a me? Ehi Ma che vuoi? Cosa mi mandi a fanguola a me? Ma va a fanguola a mamma, te va Ma allora sei stronza allora Stronza Ehi Che insistenza Stronza 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 Che vuoi? Ma cosa mi hai telefonato a fare? Ma fanguola a te con la zoccola di tua madre No, vai tu a quel paese, scusa Stronza Ancora 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 Ha mangiato Coglione di figa Ah sì, grazie, ne Ma scusa Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo Non esitate Invia subito il numero di telefono A wenderf105.net Che l'ha fatto lei Sì